amore dimmi chi ti soddisfa sessualmente il postino scusa mamma ho sbagliato numero paghi il riscatto o non vedrà sua moglie mai più voglio parlare con lei tesoro maria le lasagne che hai lasciato in frigo sono ancora buona secondo te è meglio conoscere una persona per volta come con l'app once o più persone insieme tu quello preferisci